Attenzione, avvisiamo il gentile pubblico che la clip che state per andare a vedere contiene linguaggio volgare e scurrile, anche se fa molto ridere. Consigliamo comunque la visione ad un pubblico adulto. Periode medievale, ambiente, viaggiare per vari mondi, bene, prendete una bella coperta calda e una piccola. Per raccontare assieme a me una... vi invito a contattarmi... vi invito a contattarmi le... era promessa sposa di un giovane cavalieri di nome Sir Daniel, che era il più... è scritto Sir. Ma si dice Sir in inglese? Se tu mi scrivi Sir... In inglese, Sir! Il mio cazzo! Ancora triste per la morte di tuo padre? Era figa, cazzo! Mi piaceva! Ma cacquone, quanta! Evidentemente ancora triste per la morte di merda, però! Lo rifaccio, aspetta! Ma non lo ho, perché lui è il macacolo! Ah, tu sei il macacolo e ti sei una scimmia! Stai attenzionando l'aria o... Aspetta, 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 aspetta! Aspetta, aspetta! No, 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 tiriamo caperta! Siamo in te! Ancora triste per la morte di tua madre? Ancora triste... Massi, ma dai, non ti preoccupi, il tempo è relativo... Il tempo è tiranno come dice Sauro... Tiranno Sauro... Ah, era bella quello! avviserò il re, e gli dirò di chiamare le guardie il re è suo padre ah ok, è cozzato è morto che schifo lui è rimarcazzo invisibile, è rimasto con la bocca aperta senza di niente prova bene allora forse è saltato da una cosa ma sei stupido cosa gli hai fatto? dai scolacciata si ma la cosa migliore è il resto mi sei disegnato la zanzara nella mano no non ci voglio credere ma a Daniel non interessava un cazzo di quei due dai fascia protetta ma a Daniel non interessava un'emerita cippa di quei due dai ma a Daniel non interessava nulla di quei due c'è scritto catturare porca troia ah giusto è sensibile allora ma sta partendo è la fidanzata o è morta? è morta l'hanno controllata al freddo così il passo dal medioevo all'età contemporanea si passò nel 2015 siamo nel museo di Chiagliari ma perché c'è un ninja? è un ladro è un ninja è un ladro è diabolico i tuoi occhi nella notte ed io conosco anche quel bastone aspetta è quello che aveva il padre di sur du monde sta dormendo e è morto è morto ma il suo corpo rimasto integro per magia perché c'è al cazzo a forma di fulmine? è un fulmine che lo colpisce e lui torna in vita al cazzo lo colpisce il fulmine è il ginocchio è vero quello è lo stomaco a casa è morto cosa russi è morto cioè hai fatto zzzzz è il laser è il fulmine ah ok pensavo fosse una zanzana ok ah è perfetta c'è di tutto qua dentro la capisci che c'è di tutto è un mezzanime è questo personaggio è un personaggio straversatile minchia lui mi deve spiegare come un tizio letteralmente dell'età medievale pensa un supereroe moderno è vero vado a chiamare il re a cazzo è morto si ma ora che insomma la della ok è notte fonda è notte fonda e tutto va bene intanto al museo no sei sempre tu sei sempre tu ah sono sempre io sei sempre tu una di notte e tutto va bene però lui non si vede io la farei tipo Batman no stanno inquadrando lui sta guardando l'orologio e quindi adesso ah ok ok è notte fonda è notte fonda ormai a Cagliari ormai Cagliari dorme dimmi ti prego la posso chiamare Caralis non l'abbiamo ancora no ma va bene non esiste Cagliari è bello per quello ok allora voglio fare un switch ok è notte fonda e ormai Cagliari dorme no no dun 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 no una risata ah una risata perché ci sono le virgole separa le ogni risata non è bello grazie e alla prossima fiaba tralala come c'è ancora si gli zombie la stanno attaccando al castello la sta ah gli zombie stanno attaccando io non so leggere grazie signor cavaliere a parte che non ho capito perché fa così beh ma non possiamo andarci così ma lui fa così beh ma non possiamo andarci così ma non è così non è così è tipo più eh sì ma è ancora più è ancora più grave è un cazzo che fa il Gino no è sempre ah ah la tua ferita e lui ci vive su quella è morta a coltella io non riesco forse è il caso di forse è il caso di riprendere un vestito intero ah ah la tua ferita con cui guarderai cioè nel seno ah ah ma stoомrendo il mistero ah 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 dimmi la tua ferita eh beh lo vedi che sta ridendo ah 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 come sta ridendo come sta ridendo ah no unissime sta ok ah ah la tua ferita ah 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 oh la vera perché deve ridere perché prima che si è messo pesito a due pezzi però così facendo si vede la verità appunto ma sta capendo che sta realizzando che lei ha creato un personaggio dove in una pagina è amorfo un'altra pagina sta piangendo un'altra pagina sta piangendo un'altra pagina sta non cessa la tua padre che è morto esatto è lunatico completamente lunatico ridere di che bello ridere di cuore non è anastasia questa è pretty woman l'hai sentita fatti da parte ma cacco ah no non sono io l'hai sentita fatti da parte maniaco ora che ci penso questo signore è il suo bastone il mio bastone è il mio vincastro Dumont è il bastone è il bastone magico cos'è il cazzo si è quello quindi aspetta andiamo a ballare cara no bugia che cazzo con quel macaco lui muore e poi torna che cazzo è sta cosa qua è lui che si scioglie il cattivo Dumont è che si scioglie perché lei ha rotto il bastone adio purtroppo il video non c'è molto tempo io devo tornare nel museo tu vuoi venire con me c'è da qualcosa la magia che li ha riportati in vita hanno poco tempo prima di morire e dove è stato scritto sta roba in tutto questo in quagine che non ho scritto cazzo è la cosa più figa hai tolto la cosa più figa di tutta la storia perché se tu hai visto anche gli altri episodi io a un certo punto dico cazzo lo voglio finire quindi velocizziamo purtroppo dov'è è così tutto torno all'anno ma questo è il narratore mi stai ciolando il ruolo no ma no adesso me ne vado un po' fanculo no finalmente ti levi dar cazzo me levo dar cazzo signori è stata davvero un'esperienza dare un carattere un personaggio che non aveva carattere cioè un personaggio che grazie grazie e grazie arcazzo grazie e alla prossima fiabatralala ciao 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 ciao